Ciao ragazzi, io sono Nikodin e sono ritornato con un nuovo video, nuova sfida Oggi andiamo a completare la sfida, nuovo arrivato Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella per stare sempre aggiornati con i miei video Andiamo ad aprire anche il pacco a fine sfida, quindi... Vamonos! Allora, questa è la mia formazione per la sfida di oggi Giocatori a basso prezzo, più gli giocatori che avevo io Due dalla Premier League Due dalla Ligon Questo sempre dalla Premier, così mi fa un po' di più di interessa E questo francese dalla Liga Spagnola E alla fine con due italiani a destra Terzino e esterno destro Che è questo Andiamo a ritirare il nostro pacchettino Poi vi devo mostrare una cosa che ho trovato nei pacchetti di 7500 crediti Andiamo a ritirare il nostro pacchetto di 7500 crediti Andiamo a ritirare il nostro pacchetto di 7500 crediti Andiamo a ritirare il nostro pacchetto di 7500 crediti Negozio socio Andiamo a ritirare il nostro pacchetto di 7500 crediti Come doppione Lo mandiamo alla lista Transferimenti Ok Emo ci tocca questo big pack Vediamo che cosa c'è dentro Non scambiabile Bello Spagna ATT Ugo Ah Iago Aspas 84 Bah Non mi posso lamentare Un bello 84 Qui abbiamo Muslera E di Francesco Due Tre contratti Buono Buono Vediamo un po' Questo c'è lo scambiabile Quindi va sopra E questo spero pure No Belli va sotto Questo va sotto E tutti gli altri Vanno al club Allora Adesso andiamo a mostrarvi Quello Che io Ho Trovato Nel pacchetto di 7500 Ragazzi Guardatelo qua Guardatelo Topsaba Che Confronta prezzo A un prezzo di 30.000 30.000 30.000 Sì 30.000 Quindi 200.000 Pure C'è Roba fuori 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 classe Io lo metterei a 30.000 Con il prezzo finale Quindi Aspetterò Che Mi danno quelli 30.000 Andiamo a prendere Acquistare Questo pacchetto 7500 Crediti Spessi bene Spessi Benissimo Abbiamo Tanta Roba Qua Questo Andiamo a metterlo Così 35 Metri Sul Mercato E Via Poi In più Contrati In più Questo Il pallone E' bello Questo Winter E niente Ragazzi Questo è stato il video Di oggi E Noi ci vediamo Con un prossimo Ciao ciao